Nell'ultimo consiglio comunale è arrivata una modifica alle norme tecniche del piano regolatore generale che cambieranno il volto del centro storico cittadino. Una svolta che permetterà ai negozi di vicinato, gli alimentari, di trasformarsi in pub o ristoranti. Un cambiamento che interesserà 113 esercizi di vicinato che potranno variare la propria destinazione d'uso sempre però rispettando i requisiti igienico-sanitari e urbanistici previsti dalla Lecce. I bagni destinati ai clienti, ad esempio, devono essere disponibili in numero congruo rispetto ai posti a sedere distinti dai servizi destinati al personale. Esulta ConfCommercio per questa importante novità. Ci sarà però da capire come reagiranno i ristoratori e i gestori dei pub che fin dalla loro apertura hanno dovuto rispettare determinate regole con conseguenti costi e che oggi vedono una sanatoria che non fa altro che aumentare quella che è l'offerta e la concorrenza tra le vie del centro storico proprio in un'estate in cui non ci potrà essere un boom turistico e gli incassi sono destinati ad essere inferiori rispetto allo stesso periodo ma negli anni precedenti.